CREEPPER! WHAT THE FUCK! Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodico Allora ho piantato come vedete le piante del nether Gli ho messi questi bastoncini perché grazie a questi bastoncini dovrebbero crescerne molti di più E non l'ho piantato nella terra del nether ma l'ho piantato nella terra normale Vedremo e siamo nel mondo normale non nel nether Vedo che stanno crescendo bene 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 Ragazzi oggi continuiamo la boulecraft o forestry quel che sia Allora è finita la corrente lì per cui andrò a prendere Ho già messo a fare delle celle vi faccio vedere Per messico Ah ragazzi prima di tutto voglio dirvi Grazie a tutti dei mi piace Grazie a tutti dei commenti Mi fa veramente molto piacere che la serie vi stia piacendo così tanto Ok E cercheremo io qui Takimbo, Kere, Dan, Marcus Cercheremo di intrattenervi e insegnarvi Di più cose possibili Damn Pampete permesso Ok Allora andiamo lì Alimentiamo i nostri enjime Dai dai Ok Allora 2, 3, 4 e 4 Pampete Ok Pampete E Pampete Sono accesi qua O sono spenti? Bah No Sono spenti Così sono accesi Perfetto Ok Così intanto qua ci continua a fare il liquido E vediamo un po' Dovevamo fare il logger abbiamo detto Vi ricordate? Allora Logger Vediamo un po' Ci servono questi elect Ah è vero che ci mancavano 5 diamanti Orca loggia Orca loggia Orca loggia Orca loggia Vabbè però iniziamo a fare qualcos'altro Allora questo qua per dire Si mette nel carpenter Nel carpenter serve l'acqua Nessun problema Andiamo a prendere dei tubi Dei tubi d'acqua Poi vi spiegherò anche perché ho fatto due caratteri Carpenter Allora abbiamo questi qua Poi è vero Avete detto che avevo dei cactus Eccoli qua Adesso li andiamo a piantare ragazzi Così ogni volta non dobbiamo fare Su, giù, destra e sinistra Allora Li piantiamo Li pianterei in casa sicuramente Però Forse è meglio fuori Magari li piantiamo qui dai Tanto qua poi dovrò spianare un po' Ok Più o meno Per adesso No Figlio di cioccola Figlio di cioccola Ma perché vado sempre in giro di notte Io sti cazzo di creeper Porca loggia Ok ho quasi finisciuto Andiamo qua Intanto ho finito anche la spada Porca loggia ragazzi Devo farmi una spada del Kaiser Ok Allora Facciamo qua E qua Voilà E voilà Voilà E voilà Perfetto Allora Facciamoci una spada Perché se no La facciamo La facciamo di Blu Rosso Verde Facciamo la verde Ancora verde non l'ho fatta No perché è tre Vabbè Allora Così Non c'ho bastoncini Ovviamente non c'ho neanche legna Porca loggia Legna Legna Così E Così Pampete Oh sti ragni Via questa roba Perfetto Allora Andiamo giù Abbiamo detto che avevamo questi tubi Sperando che bastino Allora li mettiamo magari al primo carpenter Il primo carpenter è lì Questo qua Ottimo Allora Facciamo così E non basta Non ti pareva Poche parole Dobbiamo arrivare là Perfetto Me ne servono ancora un po' Allora Facciamo un po' di colorante verde Tanto I cactus Non saranno ancora cresciuti Rappena piantati Non abbiamo colorante rosso Sì due Allora due E due Ne vengono due Però ne vengono solo due Abbiamo altri coloranti rossi No Porca loggia Qua che abbiamo Abbiamo questi qua Abbiamo questi qua Abbiamo questi qua di Mmm Iniziamo a fare così E così Però se non mi sbaglio Quelli d'oro Non sono compatibili Vediamo un po' Vediamo un po' Cioè non compatibili ragazzi Vediamo se quelli d'oro Si collegano a quelli di Stone Sì Ottimo Ne usiamo tre E gli altri questi qua Devono arrivare là Tanchete Uno e uno due Perfetto Così passa l'acqua Le torcia le rimettiamo qua Ok L'acqua arriva Perfetto Perfect It's the perfect Tutto è perfect Ciò che finisce è perfect Pampete Ok Così abbiamo l'acqua Pampete Ora che ci manca ragazzi Che ci manca ragazzi Che ci manca ragazzi Dovevamo fare Abbiamo detto Il logger Per cui Questo qua Lo small circuit board Redstone e tin Redstone e tin Dovremmo avere entrambi Vabbè redstone Non si è tanta Tin 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 Cavallin Ok Redstone Due stack Perfect Saliamo giù Allora Abbiamo detto Redstone così Ah così Pampete E tin Ok Abbiamo il Questo qua Ora basta cliccarci sopra Che dovrebbe partire Perché non parte Perché manca la corrente Ma vuoi vedere Che non è compatibile Con questi tipi di correnti Infatti guardate Che lì arriva Ma lì no Lì non ci arriva Per cui non va bene Questa corrente ragazzi Orca logia Orca logia Non va bene Questa corrente Ecco perché Non funzionava Orca logia E mo' E mo' Facciamo così Nessun problema Facciamo così E ci mettiamo Ora con il redstone In giant Non so se funziona Però 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 ci possiamo mettere Ma sì Redstone in giant Tanto ragazzi Lì non è che Ci serva qualcosa di tanto Ci mettiamo un paio Di redstone in giant Allora Due pistoni No In machine Pistoni Uno e uno due Poi facciamo Due di questi Ok Quattro Perfect Allora così Due pistoni Due vetri E legna No i redstone in giant Sto facendo Ma sono coglione Devo fare questi qua Allora Facciamone quattro Ok Così Pistoni Vetro E cobblestone Facciamo questi qua Pampete due Non abbiamo carbone però Vabbè Abbiamo un po' di legna Dai Per il momento Tanto lì ragazzi Noi crafteremo sempre Ci serve una volta ogni tanto Vanno benissimo questi Allora Facciamo così E così Pampete Voilà Ci mettiamo della legna Una lava Eh sì Una lava Una leva Una leva Voilà Sì Proprio lì Ok Dovrebbe funzionare Vediamo un po' Vediamo un po' Perché non va? Perché manca la tin Pirla Ma allora Volete vedere Che era compatibile No scusate L'ho stoppato Un attimo Ragazzi Perché se Mi incazzo Adesso Adesso mi incazzo Mancava la tin In prima Funziona Ma va a farti Fottere Funziona Ma porca Loggia Uè Porca Loggia Uè Funziona Vaffanculo Me ne ha fatti due Addirittura Pampete No me ne ha fatto Sempre uno No me ne ha fatti due Non sono accumulabili Ma me ne ha fatti due Ok Abbiamo lo small circuit Pampete Li piazzichiamo chi Ora dobbiamo fare Sempre questi qua Allora 5 diamanti E 2 red Staviamo un po' Se riusciamo a fare 5 diamanti 5 diamanti 5 diamanti Per fare 5 diamanti Mi servono Un sacco di ori Niente Stavo scherzando Ragazzi Quelli la Non ci riusciamo Dovei andare in caverna Dovrei andare in caverna Va bene Nel frammento Mangiamo una carota Andiamo a uccidere Qualche mucca Che ne abbiamo Un bel po' Ottimo E mettiamo qua Ok Andiamo a cuocere Qua ci facciamo le scale Ragazzi Poi tanto La dobbiamo spostare Di qua Sta fornaccia Allora Facciamo così Ambulanza Come al solito Voilà Dai cuoci Vediamo un po' Quante mucche abbiamo Qua non c'è più niente Dentro No Vero Ok Allora Vediamo un po' Una bistecca Due bistecche Mi ha fatto i knight I knight Di no Ok Siamo a due Siamo a tre Qui sta funzionando bene Questa è piena Ottimo Eccolo qua Un knight Un knight Un nugget Mangiamo questo qua Ok It's the perfect Via La spada La mettiamo qua Ok Basta Basta Gracias Allora ragazzi Io vorrei fare una bella cosa Oggi Cioè oggi Allora Mi servono dei fogli Cioè dei libri Abbiamo della pelle Si giusta giusta Andiamo a prendere Delle canne da zucchero Andiamo a raccogliere Le canne da zucchero Io vorrei anche Automatizzarle Addirittura Voilà Facciamo un paio di libri Ok Poi la legna L'abbiamo messa qua Si ragazzi Ormai per questo episodio È così Poi andrò a prendere Andrò a prendere Come si dice Di diamanti No se li trovo Allora Facciamo dei bastoncini E com'era Così No Era così Era così Come cazzo Così no Allora era al contrario Erano così E i bastoncini No Come cavolo era Orca loggia U Doviamo fare Facciamo due libri Facciamo due libri Ok Allora Facciamo un libro E lo creiamo Lo creiamo Lo creiamo Qua Quasi quasi Qua Qua Allora Facciamo così Pampete Creiamo un libro Verde Olè E lo andiamo E lo andiamo a mettere Nel nether Vediamo un po' Se ci funziona Andiamo di là Dove stavo cadendo Dove sono caduto Non dove stavo cadendo Andiamo alla nostra Macchinario lì Perché corro così piano Ecco Guardate ogni volta Che cosa mi tocca fare Ragazzi Aia Ok Allora Proviamo a chiudere Qua vaffanculo Vedete qua è finito tutto Allora Ci mettiamo il nostro Bel libro qua Pampete Ne craftiamo uno nuovo Ok Ora Se io questo qua No Scusatemi Questo qua Lo metto qua Dovremmo tornare a casa Pampete E se questo Lo metto qua Dovremmo tornare là Olè Avete visto ragazzi Qui andiamo lì E qua andiamo là Per cui questo qua Lo possiamo anche Cambiare di nome Quindi cambiamo il nome Lo chiamiamo Lo chiamiamo Lo chiamiamo Come lo possiamo chiamare ragazzi Come lo possiamo chiamare Nether Facciamo così Nether Lava Così ci ricordiamo No Voilà E dai Lo mettiamo qua Ok Se andiamo di qua Andiamo nel Nether Normalmente Vedete Torniamo a casa E se vogliamo andare Nel nostro macchinario Andiamo direttamente lì Pampete Voilà Eh Anzi Io che siamo qua Farei una cosa del genere Ragazzi Prenderei una Bella Ender Pearl Se l'abbiamo No Nessun problema La craftiamo Anzi So già come si crafta Pirletta Con il ferro Per cui 1 2 3 4 1 2 3 4 Facciamo in questo modo Ok E facciamo 2 Ender Pearl Pampete Andiamo un attimo lì E dai Corri Ma ce la fai a correre oggi Voilà E gliele metterei Direttamente Tutte e due dentro Pampete Oh Qui vedete che si è blocchietto Nessun problema La Ranch La Ranch E lo riattiviamo Pampete Sono un coglione Ragazzi Allora Qua lava ce n'è Lava ce n'è Qua funziona E mancano le canne Però ci manca anche la tin Orca loggia Ci manca anche la tin Ragazzi siamo a corto di tin Porca trota Allora intanto qua Se vi ricordate Avevamo questi qui Oh 64 Li andiamo a mettere qua Ne mettiamo Come mai sono fermi Togliamo questi Mettiamo Uno, due, tre Di questi Che durano di più Oh e dai Uno, due, tre Ne ho messi due E Uno, due, tre Voilà Poi, poi, poi Questi qua Andiamo a vedere Qui arriva Andiamo a prendere Un po' di lava Dicevo Questi qua Li possiamo mettere Anche qua Volendo Ne mettiamo Giusto così Pampete Ok Qua è tutto fermo Va bene Facciamo così Andiamo al query Facciamo un giro Dal query Ragazzi Per attivarlo Ma mi sa che È anche finito Addirittura Andiamo a vedere Facciamo così Dove ho messo Il jetpack Qua Olè Vai, 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 vai Mi sa che è finito No, non è finito Perché non va Ah, sarà finita la lava Sicuramente Infatti Vediamo un po' Perfetto L'è finisciuta la lava Pampete Ok Ah, comunque Ogni cosa è uno stack Che è uno Per cui sì Quattromila Giusto Via Ok Tanto abbiamo potenziato Addirittura il coso Ragazzi La cesta Della cobblestone Se vi ricordate Oleo Bene Io dovrei andare a cercare I diamanti Direi che Me ne vado in caverna E ci vediamo Nel prossimo Episodico Da Luke e tutto Ciao a tutti Ah ragazzi Una cosa Scusatemi Ditemi come volete I pannelli qua Di vetro Fanno schifo Mi sa che farò tutto In cobblestone Che ne dicete In stone Volevo farlo Un po' colorato Magari quando avremo Tanto oro O ferro Facciamo più bello Dai Per il momento Lasciamo così Da Luke è tutto Ciao a tutti